Allora Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio della Scuola e Picciata. No, no, non te la dico, te la faccio al volo. Marco Fioravanti, Consiglio della Scuola e Picciata. Aspetta, però dimmi, cioè di che parliamo? Parliamo semplicemente di quello che ha detto la Meloni, che io condivido, però ti faccio poi una domanda. Degli estracomunitari. Eh, in che senso? Allora, gli estracomunitari in che senso? Mi va bene tutto, condivido tutto quello che ha detto Giorgia Meloni, però il problema è che voi, quegli estracomunitari, Ma voi chi? Ma voi chi? Non ti cazzate, non ti cazzate, non ti cazzate. Vedi come si arrabbia, come si arrabbia. Ma perché ti arrabbia? Anche a fai come sgarbi, dichi voi, dichi voi, dichi voi, dichi voi, dichi voi, dichi voi, chi voi, Vedi come si arrabbia, perché ti arrabbi?